Ci siamo! Bentornati a tutti quanti a questo appuntamento mattutino qua sul canale TwitchDevrei.it Ancora per una settimana in setup casalingo, ma insomma sempre pronti con la consueta energia ad accogliervi al mattino Buongiorno a tutti quanti, grazie mille per essere qua, grazie anche a Leo che sia buona per 19 mesi Il mene urla fossa adottami, sto sbrigando le pratiche di adozione per il 470 di voi che ha chiesto la stessa cosa Però stanno andando bene, poi ti metto subito in coda Grazie a Eric che sia buona per 5 mesi, SpinDoctor che sia buona per 27 mesi, Obodo che sia buona invece per 7 mesi E buongiorno anche alle sghede che ci raggiunge, benvenuto E dicevo, tutti gli abbonati dalla scorsa settimana hanno accesso non solo al canale Telegram degli abbonati Ma anche al canale Discord, basta che scrivano punto esclamativo Discord e possono accedere al canale Discord In cui fra l'altro in questo weekend, grazie al buon Christian che ancora non lo vedo, sarà probabilmente ancora dormiente Ha avuto anche il primo evento di gioco della community, del Lord of Every Eye Quindi insomma, lì ci sarà anche la possibilità di incontrarvi, entrare nella voice chat Venerdì scorso, mentre Ale streamava, ci siamo fatti una chiacchierata, sono entrato anch'io proprio per lanciare il canale Grazie mille anche a Fotogrammi di Verità che sia buona per 8 mesi Mesi versario con ciuffolo tifondista contenuto Eh sì, ma contenuto mica tanto, bisogna... Ah no, eccolo Christian, eccolo Christian, buongiorno Andrà tagliato fra poco questo ciuffolo tifondista Grazie anche a Cappy che si abbona per la prima volta a livello 1 Mi sa che è partito anche il treno dell'Ipe, senza che io me ne sia accorto Eccolo qua, già a livello 2, anzi quasi a livello 3 adesso grazie a Gianni No, proprio a livello 3, grazie Gianni, 267 che si abbona e dice Buongiorno Fossa, seguirete il Re Showcase Savassandir, come direbbero i francesi Ovviamente che lo seguiamo, lo seguiamo anche con una live un po' più, diciamo, fatta a modo Quindi si parte alle 19 con un pre-show, cena, social eating E si arriva alle 23 quando poi ci sarà lo showcase di Resident Evil Grazie anche a tutti quelli che si stanno iscrivendo per raggiungerci nell'ordine degli abbonati Finisco il discorso su Telegram Discord Mentre Archie si abbona per 36 mesi 3 anni Archie, 3 anni Cioè comincia a diventare una cosa importante E McGregor invece per 10 mesi Buongiorno Fossa, aprile potrebbe essere il mese giusto per Resident Evil Village Gameplay adesso e lancio ad aprile? Forse più maggio Forse più maggio Però insomma, sì Sì, dai Cioè Gameplay adesso e lancio ad 5-6 mesi Entro i 6 mesi Dai Dicevo Gruppo Telegram Server Discord Ci sono queste due cose Il server Discord Ragazzi il gruppo Telegram Crescendo Diventa sempre più difficile Ovviamente insomma da Come posso dire? Ordinare D'accordo? Il server Discord invece ha i suoi bei canali tematici Ne ho aperto uno Analisi e critica Ne ho aperto uno Su suggerimento anche di Di Christian Meme In modo che magari insomma Una parte della produzione Quella un po' più divertita e leggera Si sposti lì Uscendo anche dal canale Telegram Che ogni tanto sennò diventa Strapieno di messaggi E difficile da seguire Quindi Usiamo tutti questi strumenti E ripeto Il server Discord Serve anche per Serve anche Serve anche per Incontrarsi Giocare insieme Fare una voice chat Conoscersi un po' meglio come community Lobby LAN 200 bit Grazie mille Fusion 4 mesi di abbonamento Player from the 80's 6 mesi di abbonamento Oh Adesso Dopo Tutto questo Polpo Briao Si abbona Per 7 mesi Il treno dell'Ipe Che fa Raggiunge Stamattina Il livello 4 Vediamo Se raggiunge Il livello 5 Stamattina Finalmente Dicevo Dopo questa Introduzione Posso bere Un sorso Del mio cappuccino E mangiare Grazie mille A Mr Fox Life Che si abbona Per 5 mesi E a Giacomo Che si abbona Per la prima volta Benvenuto Grazie mille E mangiare Chi li riconosce Solo i buon gustai Li riconosco Solo i buon gustai Questo come tutti i biscotti Nella mulino bianco Hanno Ha La proprietà Che appena lo metti in bocca Poi deve masticare Per 28 minuti Scarpa Tommy Ci va vicino Links 75 bit Che peccato Dover andare via Quasi subito Buona settimana ragazzi E fossetto caro Ciao Buona giornata E insomma Grazie comunque Per essere passato a salutare Grazie a loro Che sia buona Per 33 mesi Grazie di cuore Sono i settembrini Che sono come I cuor di mela Ma non c'hanno La mela Ma c'hanno Il fico Edo Spano Si è buona per 3 mesi No Links Ma sai Puoi stare anche più di 5 minuti Credevo dovessi andare via Come che schifo Come Gorghi Gorghi Ascolta C'è questo rapporto speciale Fra noi Ma Cioè Il settembrino Con la marmellata di fico Cioè Non mi puoi dire Che schifo No Gorghi Quindi è cannibalismo Mi ha fatto molto ridere Grazie Biodoc97 Grazie mille per l'abbonamento Grazie di cuore E grazie a Cristan Per 200 bit Treno del fomento Max 33 mesi insieme Grazie Quasi 3 anni Buongiorno Tordelli Scarpa Tommy chiede Se faccio inizia prova gratuita Per abbonarmi con Prime Poi pago Scarpa Tommy Non ne ho idea Ma credo di si Nel senso che Se tu fai inizia prova gratuita Ti danno il Prime Gratis Per un mese Poi Le opzioni Sono Cioè Quella di avere Proprio Amazon Prime E puoi associarci Prime Gaming Senza costi aggiuntivi Ma paghi Amazon Prime Oppure di Continuare a pagare L'abbonamento mensile L'abbonamento mensile Fare la prova gratuita E poi Anche subito Oggi stesso Disattivare Il rinnovo automatico Poi non paghi Tre buoni motivi Per iniziare The Last Guardian Ok Diciamo Motivo numero uno Lo stile La componente stilistica Del mondo di gioco Che riesce a Trasmettere Diciamo L'idea Di questa Meraviglia Di questa società Cioè Società Di questa Cultura Un tempo Grandiosa E purtroppo Caduta in rovina E attraverso queste rovine Di una bellezza Sconvolgente Si percepisce appunto Quest'idea Di una Grandezza spenta Caduta E quindi È una bellezza Ammantata Un po' di nostalgia Per tutta la durata Del gioco Secondo me Il senso di meraviglia Innescato appunto Da queste costruzioni Titaniche Ma ormai Rotte Spaccate Consumate dal tempo Ti accompagna Ed è una cosa Meravigliosa Mentre ringrazio anche QB95 Che sia buona per 8 mesi Grazie mille Un altro elemento È Ovviamente Il rapporto Che si riesce a creare Con questa Creatura Trico Che è una creatura Alle volte anche Testarda Non solo per Le sue caratteristiche Ma anche Per l'intelligenza Artificiale Che in qualche caso Fa un po' le bizze Però Insomma Nobile Affettuosa Indipendente Non lo so È una delle poche volte In cui Riesci proprio A costruire Una sensazione Tanto grazie anche a Tifone Che ci lancia 200 bit Dice arriviamo a 100 Ma Non ce l'abbiamo fatta Ma insomma Siamo arrivati Live train È andato alla grande Grazie a tutti i ragazzi Dicevo È una delle poche volte In cui si riesce Un videogioco Riesce veramente A Costruire Un rapporto Emotivo E affettivo Con questa Entità Che chiaramente È un'entità Solo digitale Virtuale Ma Attraverso Una serie di situazioni Di comportamenti Di meccaniche ludiche Davvero riesce a Metterti un semino Dentro il cuore Che poi germoglia Anche grazie A La L'andamento Del racconto E Il terzo motivo È proprio quello Legato a tutta la produzione Di Fumito Ueda Io non so In che rapporto Sei In che rapporti Sei con quella produzione Cioè Sei già fatto Ico E Shadow of the Colossus Oppure no Però Nel secondo caso Va bene anche Diciamo Cominciare da qui E poi riscoprirla Perché Le linee di tendenza Le linee di continuità Gli elementi Che accomunano Queste produzioni Che le mettono Che le mettono Anche in correlazione Ci sono Si riscoprono Però non è un andamento Narrativo Quindi puoi assolutamente Anche partire da lì E poi riscoprire Tutto quello che c'è dopo O viceversa Se hai già fatto Shadow of the Colossus E Ico Questo è una sorta Di completamento Della sua visione poetica Assolutamente È una visione poetica Che fra l'altro Porta avanti Cioè ha degli elementi ricorrenti Delle tematiche ricorrenti Quindi L'opposizione Fra grande e piccolo Che in Shadow of the Colossus E in Trico E in The Last Guardian È un elemento centrale Anche diciamo Della narrazione In Shadow of the Colossus È un'opposizione Furiosa Bellica In The Last Guardian Invece È un'opposizione Ma Insomma Votata Alla creazione Invece Di un rapporto Positivo Non di uno scontro E Appunto La bellezza sfiorita L'antichità Ormai Perduta Ci sono Degli elementi E delle tematiche Che Ovviamente Insomma Risuonano fra di loro Attraverso tutta la produzione Di Weda Quindi Secondo me Assolutamente da giocare Buongiorno Joe Links Ora devo proprio scappare Recupererò Settimana prossima Se tutto va bene Le colazioni sono il modo migliore Di iniziare la giornata Ciao Buona giornata E ci vediamo alla prossima Grazie mille Per essere stata qui Lupara galattica Sei buona per nove mesi Forse ma l'immagine di Deacon Rappresenta il tuo stato d'animo Ogni Ogni qualvolta La società ci pone di fronte a dogmi Che oramai Le nostre generazioni Sempre di più Non vogliono rispettare Perché non sentiamo Non è proprio così Però se vogliamo Dargli questa interpretazione Lupara Possiamo anche fare Questa cosa Gorghi Non so se ti ho Ok Sicuramente Lo inizierò nel pomeriggio Ne riparlerò la prossima settimana A colazione Sempre sul pezzo Federico Grazie Grazie mille Fammi sapere Preparati a un po' di Spigolosità Nella gestione Del Di Trico Però insomma Le puoi Le puoi Invece sono Necessari Necessari Che si innescano automaticamente Quando lanciate la versione digitale Perché scaricandola Scaricate anche Gli aggiornamenti E update Che bloccano il frame rate A 30 Sia sulle vecchie console Che sulla nuova La nuova PlayStation 5 Avrebbe la possibilità La forza Di mandarlo A 60 Ma Ci è andata male Lorenzo Si è buona per 7 mesi Grazie mille L'ore Buongiorno Fossa Nevica in quel di Milano No Assolutamente no Ma Nemmeno Nemmeno Lontanamente Ragazzi I'm Wolf Dice bella cagata Eh si Non so Servirebbe purtroppo Cioè Basterebbe che Il team Fosse disponibile A fare una patch Il problema È che non so Neanche più Se Esiste Cioè nel senso Non è Automatico Che ci sia qualcuno Un team Anche piccolino Che riesca Adesso A rimettere le mani Sul prodotto E fare una patch Certo Sarebbe molto bello Se riuscissero Non credo sia Una cosa Impossibile Sarebbe molto bello Se ci riuscissero Però Vediamo Con quale Mass Effect Inizio a giocare? Beh Giandui No Qui credo che la domanda sia La risposta sia facilissima Nel senso Dal primo Assolutamente Mass Effect 1 2 3 E poi Andromeda Come extra Cioè Segui assolutamente Quella Quella linea Anche perché Se è vero che I tre capitoli Poi cercano Secondo me Purtroppo Cercano di Avere una loro Autonomia Quindi Parzialmente Ogni capitolo Mette un punto Al precedente È una cosa È una cosa un po' Strana Non è che Ogni gioco Finisce in maniera Perentoria Per ridare L'avvio A un altro Prodotto È che Il prodotto successivo Scardina un po' La narrazione La narrazione Del precedente Cioè Nel senso La interrompe Un po' Bruscamente E la fa ripartire Proprio perché All'epoca Insomma Anche Electronic Arts Non voleva Sottolineare Troppo La continuità Dei tre prodotti Cioè C'è una continuità Però non è Non è Accentuata Dal racconto Anzi Il racconto Cerca appunto Di 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 essere autonomo Delle tre puntate Chiamiamole così E Per Evitare che Qualcuno Che magari Arrivava alla saga Solo con il due O solo con il tre Si sentisse spaesato Ci ho detto È chiaro Che c'è una progressione Ed è chiaro Che deve iniziare Dal primo Frank Si è buona Per sei mesi Grazie mille Frank Mi avete fatto Venire voglia Di rigiocare Della Sguardian Eh Nick Nick Rigioca Assolutamente Anche con i Tuoi figli Faglielo vedere Perché è un È un prodotto Assolutamente Incredibile Dissipazio Dice Trico Miglior essere vivente Virtuale Della storia Del videogioco Pensate Ora non so Se Abbraccio Questo Cioè nel senso Non mi viene in mente Cioè ci dovrei pensare un po' Però chiaramente Nelle parti alte Della classifica Barba unta Questo messaggio Nasce esclusivamente Dall'impellente Necessità Di far fluire La passione Nelle Tremebonde Fossettiane Virtù All'ingiù Dell'India Per comprendere La potenza Mediatica E la capillarità Di Avriai Il mese scorso Ho acquistato Un nuovo Veicolo E al di Del primo Incontro Nello showroom Troneggiava Un megaschermo Abnorme In cui girava L'approfondimento Di Avriai Motori Sul mezzo Tramite il quale Il venditore Mi presentava Il prodotto Avriai Al Quirinale Ora Per il Quirinale Ci stiamo lavorando Fra un po' Lanciamo La sezione Politica E cultura Di Avriai Punto it Abbiamo speranze Per il 2023 Una cosa Passo passo Gabri Mac Dice Io fra Finito Qualche giorno fa Ma sono felice Che lo stiate Riscoprendo Allora vedete Che questa Collection Alla fine Qualcosa serve Perché sai Io l'ho Quando l'hanno annunciata Ho detto Vabbè sì Grazie al cazzo L'ho giocati tutti Però Mi rendo conto Che Che non è così Comune Insomma Aver frequentato Così approfonditamente Tutta la line up Di Produzioni E anche Di esclusive Sony Magari qualcuna Cioè Magari Molti utenti Qualcuna Se la sono lasciata Dietro E adesso Hanno Occasione Anche In virtù Del Del periodo Un po' Stagnante A livello Di uscite Di recuperarlo Sono Sono felice Vlad E parlavamo Della PlayStation Plus Collection Perché È arrivata La domanda Su Su The Last Guardian E quindi E quindi In tanti Insomma Hanno Qualcuno Diceva Che l'ha Rigiocato Qualcuno Che ha voglia Di rigiocarlo E via Buongiorno Buongiorno Fossa Mi sono appena Collegato Hai già detto Qualcosa sul Rinvio di Hogwarts Legacy Guarda Matto Matto Non oggi Cioè Non specificatamente Oggi Però Ne abbiamo Parlato Proprio Molto rapidamente Quando Era stato Rinviato La settimana Scorsa Sono arrivati Una serie Di rinvii A tappeto Quindi Riders Nation Hogwarts Legacy Non saranno Assolutamente Gli ultimi Non lo saranno Io Quella Che ho capito Meno È stata Proprio La strategia Di Ubisoft Che Ha annunciato Sei prodotti Per poi Rinviarne Tre Perché Ha rinviato Il remake Di Prince Of Persia Ha rinviato Far Cry E ha rinviato Anche Riders Nation Era proprio Surreale Pensare Che Ubisoft Lanciasse Così tanti Prodotti In così Poco Tempo Vi ricordo Che erano Sei prodotti In cinque Mesi Sostanzialmente Io Non ho Proprio Capito Nemmeno Perché Perché Era Evidentissimo Che ci fosse Un Sovraccarico Da parte Della software House Francese Quindi Non so Perché Non so Perché L'ha annunciato Riders Republic Sì Riders Republic Dio Carambola Che cosa Ho detto Ho sbagliato Vabbè Comunque Quello là E Fra l'altro Riders Republic Che Proprio Come Far Cry Cioè Era stato Mostrato Con un Trailer Forse Forse Era addirittura Un po' Più Avanti Nel processo Comunicativo Perché Far Cry Si era visto Solo Un Il teaser In computer Grafica Riders Republic Aveva Qualche Scampolo Di gameplay Qua e là Nella Presentazione Grazie Mille a Ingmoro Che Che Lancia 10 bit E dice Il gioco Di ieri sera Stanotte Come vuoi tu Era veramente Bellissimo Stanotte Abbiamo giocato A Deep Rock Galactic Con Dario Con la Tomodashi Crew Molto Molto Bello Magari una volta Lo porto Anche qui In questo Periodo Un po' Fermo Vabbè Comunque Dicevo Strategia Ubisoft Per me Per me Difficile Da capire Non capisco Come mai Abbia Avuto La Fretta Di Collocare Questi Prodotti Perché Capisco La necessità Di annunciarli Capisco Anche la necessità Di Proprio Fare Comunicazione Rilanciare Anche Ubisoft Forward Come Appuntamento Di comunicazione Ma Cazzo Una volta Che l'hai Annunciato Perché Li devi Per forza Mettere A febbraio Questo esce a febbraio Non ha senso Soprattutto Soprattutto Se Sai benissimo Che comunque Sia Siamo in un anno In cui I lavori Su una produzione Possono essere Abbondantemente Rallentati Anche dalla situazione Della pandemia Globale Vabbè Ha deciso di farlo E rinviati Era prevedibile Ce ne faremo Una ragione L'unico L'unico Prodotto Fra i tre Che appunto Può essere Stato rinviato A seguito Non di problematiche Non di problematiche Sulle tempistiche Di lavoro Ma di problematiche Legate alla ricezione Del pubblico Era proprio Il remake Di Prince of Persia Perché era bruttino E magari Volevano davvero Lanciarlo così E poi si sono accorti Che forse era meglio Non lanciarlo così Anche per non interrompere La serie positiva Perché Legion Valhalla Immortals Secondo me È stato un bel trittico L'altro rinvio Che era quello D'appunto Della domanda Di Hogwarts Legacy Devo ammettere Che quello Non me l'aspettavo Nel senso che Pensavo Che sarebbero Serenamente Riusciti A uscire In autunno Anche perché Appunto Era l'annuncio Comunque L'annuncio preliminare Credevo che Avrebbero proseguito Nello sviluppo Ce l'avrebbero fatto vedere Attorno alla metà Dell'anno Magari giugno Per poi lanciarlo Verso novembre Che di solito È La finestra Perfetta Per Questi grandi Blockbuster Magari con alle spalle Un brand Enorme Come Hogwarts Legacy Io non so Se Il caso Cyberpunk Ha messo Un po' Di paura In generale A tutti I grossi Publisher Speriamo Magari Magari Così adesso Stanno un po' Più attenti Si prendono qualche mese in più Non annunciano le date di lancio Non lo so Però Comunque A questo punto 2022 Dovremmo capire Cioè Ancora Non abbiamo nessun indizio Cioè Può essere un rinvio Davvero Lo vogliono lanciare a novembre E arriverà Entro il fiscale Quindi entro marzo Oppure Può essere un rinvio Proprio di un anno avanti Magari Lo lanciano In autunno 2022 Vai a sapere Forse quando esce Elden Ring Allora abbiamo paura Per Elden Ring Visto che è Bandai Nanco No Ma tranquilli Non mi fate dire nulla Non mi fate dire nulla Che già abbiamo dovuto Smantellare l'ufficio Perché è stato minato Alle fondamenta Perché io ve l'ho messa lì Con questa narrazione Rifacciamo i set Vengono No La verità è che Era proprio Impossibile Cioè c'era una spada Cioè c'era una spada di Damocle Che prendeva sulle nostre teste Quindi Sto scherzando ovviamente Ma Ratchet Chiede Quick Grazie a Cristian Che ci lancia 100 bit Dice Ratchet 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 Pokémon Diamante Sempre nei cuori Oh ragazzi È bastato È bastato Un errore Del bot Per creare Questa mitologia Di Ratchet Ratchet Pokémon Diamante Ratchet Vediamo Quando arriva Ci avevano detto Che doveva essere pronto Per Natale Secondo me È pronto E stanno semplicemente Spalmando La line up Nel senso che Comunque adesso Ragazzi Fra dieci giorni Non se lo ricorda nessuno Ma Fra una decina di giorni Poco più Due settimane Arriva Destructional Stars Che è Un'esclusiva Comunque delicata Nel senso che Ecco È una nuova EP Titolo multiplayer Poco conosciuto Presentato In un periodo In cui Comunque La stampa Non è riuscita A metterci le mani sopra Per via del Covid E quindi Nessuno ve l'ha potuto Raccontare Nessuno ve l'ha potuto Dire Quindi è un prodotto Fragile Dal punto di vista Della comunicazione Quindi È chiaro Che se Lo lanci Insieme a Ratchet Chi se lo incula Ecco Sì Vabbè Magari qualcuno Che Gradisce Particolarmente Il genere Del combat racing Oppure qualcuno Che gioca Specificatamente Il multiplayer Lo può Frequentare Però Ecco Diciamo che Non Che la maggior parte Del pubblico Sarebbe Magnetizzata Dall'altra Dall'altra Produzione Quindi Magari adesso Lanciano Questo Questo Destruction All Stars Che sarà gratis Anche con il Plus E poi Dopo entrano in Comunicazione Per Ratchet In quest'ottica Secondo me Ci sta Non averli Sovrapposti Cioè Una volta che hai Perso Per Ratchet La finestra Natalizia Che secondo me Sarebbe stata Comunque Quella migliore Ci sta Adesso Non fare Il Mischione Balloon Buongiorno Fra In sti giorni Sto pensando Di recuperare Una Switch Lite Per recuperare Qualcosa In tal senso Pensi che Il 2021 Di Nintendo Possa essere Un anno Più profigo Rispetto al 2020 Magari con Qualche uscita Più grossa Guarda Balloon Credo di sì Cioè Ne basterebbe Anche solo Una veramente Grossa Per essere Per far sì Che sia Un anno Un po' Più profigo Del 2020 Il 2020 Nintendo Insomma Sì Ha avuto Animal Crossing Che è stato Proprio L'esplosione Però poi Non è C'è stata Un'esplosione Diciamo Economica E anche un po' Culturale Ok Però ludicamente Parlando Diciamo Non è quella L'esclusiva Che ti fa La console Per chi guarda Al valore Di Nintendo Dal punto di vista Squisitamente ludico Anche perché Diciamo la verità Insomma È un recuperone Di meccaniche Che la saga Animal Crossing Aveva già Diciamo Presentato In passato Con altri capitoli Quindi Sì Ballone Io mi aspetto Almeno una cosa Grossa di Nintendo Quest'anno Me l'aspetto Fra l'altro Tra i 35 di Zed E i 25 di Pokémon Un po' di festeggiamento Cioè Arriverà Credo Fabo Fra ieri sera Ho giocato E finito Grease Un'esperienza Che dura Una manciata di ore Con un gameplay Risicato Ma comunque Funzionale A tratti ispirato Sono d'accordo C'è qualche Enigma ambientale Che funziona Molto bene Tutto secondario Era dai tempi Di giorni Che non giocavo Una piccola perla Come questa In grado di lasciarmi Qualcosa con il finale E con una direzione Artistica meravigliosa Preso con i saldi Di gennaio Sul PlayStation Store E li vale tutti Anche di più A te immagino Sia piaciuto parecchio A me È Cioè Per me è un Un capolavoro Mentre Scusate Ringrazio Space84RM Che si abbona Per 29 mesi Perdonatemi Aerith 19 Che si abbona Per la prima volta Roberto Che si abbona Per 9 mesi Grazie di cuore Grazie Grazie A me è piaciuto Tantissimo Gris Io l'ho fatto Tutto in live E È un gioco Che mi ha Commosso Poi In live Ho cercato di Non lasciarmi andare Del tutto Ma è un gioco Che ti tocca il cuore Senza ombre di dubbio Bellissimo Quello che riesce A dire Secondo me Senza dire Una parola Di fatto Senza pronunciare Una parola Consigliato a tutti Secondo me Come giustamente Hai detto Le meccaniche di gioco Sono comunque Cioè Rientrano all'interno Di un genere Che è quello Del platform adventure Diciamo così Molto frequentato Non si inventa niente Da quel punto di vista Però riesce comunque A intrecciare Meccaniche di gioco Direzione artistica Perché anche Nell'interazione Con questo mondo C'è una bellezza Di rompente E questo fa sì Che insomma Sia comunque Se non brillante Dal punto di vista Del gameplay Comunque Solido È estremamente piacevole E poi È chiaro L'incontro Fra musica Colori Sensazioni Emozioni E il racconto Che porta avanti Che è anche un racconto Di riscoperta Dell'amore per il sé Un racconto Di superamento Del lutto Meraviglioso I videogiochi Devono anche Far quello E Sono contento Che tu l'abbia anche messo In connessione Con Giorney E adesso vi spiego perché Dopo aver ringraziato Moncio Che festeggia il B-Evriversario 24 mesi E Jurex Che si è buona Per 4 mesi Dicevo Sono contento Che tu l'abbia messo In correlazione Con Giorney Perché Giorney È Bene o male Il titolo Che ha Fatto un po' Capire Ai game designer Che Era necessario Che il videogioco Esplorasse E uso Questa espressione Non a caso Altre Ehm Altri cromatismi emotivi Uso questa espressione Non a caso Perché questa fu La stessa espressione Che proprio Genova Shen Il brillante Ideatore Di Giorney Che Capo di Death Game Company Usò Durante Un evento Di presentazione Alla Games Come io me lo ricordo Sempre Dice Contro La battaglia L'opposizione E lui disse Voglio fare un gioco Che parla di altro Secondo me Il software Come Medium È maturo Per farlo Io lo voglio fare E la gente Gli dava contro Cioè la gente Gli diceva No ma perché Lo dovrei giocare Non c'ha Replay value E lui Dice Ma sai che cosa Tra l'altro Lo disse proprio A un collega italiano E disse Che continuava A chiedergli Ma Ma perché Dovrei giocarlo O rigiocarlo Lei dice che dura Tre ore Quattro ore Perché Dovrei acquistarlo Se poi non ha Replay value E lui disse Sai che cosa Non è che devi farlo È fare qualcos'altro Nel senso Non è che Il mio videogioco Lo devo necessariamente Fare per tutti Se tu credi Che non sia per te Ci sono appunto Tutti gli altri Videogiochi Che Probabilmente Sono più affini Al tuo Rapporto Con questa In questo medium Sentiti libero Ecco E io lì Ero You know what You don't have to Mamma mia Applausi Applausi Emmer Drake Si è buona Per la prima volta A livello 1 Grazie mille Ricordo A tutti quanti Che scrivendo Tg Arriva Il gruppo Telegram Eccolo qua Scrivendo invece Discord O anche solo Di Dovrebbe arrivare Il server Discord Eccolo qua Lo spammo Perché è una cosa nuova Eccolo Favore torpedone Si è buona per 7 mesi Un bel cappuccino Per te Eccolo qua Ce l'abbiamo Un cappuccino Gra Buongiorno Fossa Ieri ho concluso Demon's Souls Prima run Naturalmente Direi che le imprecazioni Che ho lanciato Contro questo videogioco Non le ho mai lanciate Fatto sta che sono qua A chiedermi se continuare Per platinare il gioco O no Mi sento un masochista Consiglio Gra Io non sono Un platinatore seriale Anzi Non sono neanche Un platinatore Punto Sono un platinatore occasionale Ma proprio Cioè Siamo passati da Batman Arkham VR A Astrobot Quindi Pensa te Quanti platini prendo Il mio suggerimento È quello Di andare avanti Nella saga Se puoi Cioè Hai fatto il primo Fai anche il secondo Sapendo che è Un titolo Parzialmente apocrifo E chiaramente Il meno convincente Dal punto di vista Della coesione Del mondo di gioco Dell'alore Di tutto quanto Poi passa al terzo E Chiudi questa trilogia Piuttosto che Focalizzarti Sul platino Oddio Una seconda run La puoi fare Magari fai una seconda run Non so se basta Quella per platinarlo Una seconda run Ci può stare Incaponirti Per platinarlo Se deve essere una cosa Che ti porta via Tempo Che potresti investire Magari nei capitoli successivi Non mi ci Focalizzerei troppo Buongiorno Fosse In attesa di Prendere la PS5 La mia prima vera perla Del 2021 È A Plague Tale Innocence Titolo non esente da difetti Ia tratti imbarazzanti Ma storia veramente calamitosa Sono d'accordo Bello Ovviamente non è uscito Nel 2021 Ma sono d'accordo Che sono contento Che tu l'abbia riscoperto Intanto ragazzi Cavolo Vi siete iscritti Stamattina in tantissimi Vi adoro Grazie Grazie mille di cuore A tutti quanti Per essere qua E benvenuti Nell'orda Di Everyeye.it Frate l'ho chiesto ieri sul gruppo Ma mi hai gostato Scusami Mattia Ho intenzione di prendere Dissidia Final Fantasy Sai com'è? Beh sì Lo so com'è Grazie mille Splasmon Intanto che si buona Per 13 mesi Adesso leggo anche la domanda Dissidia Final Fantasy È Com'è? Non tutt'altro che spiacevole Per essere un brawler Con quell'impostazione Un brawler 3D Come insomma Vanno molto anche In Giappone Se vai nelle sale arcade Ne trovi sempre qualcuno Vecchio o nuovo che sia Ed è un prodotto celebrativo Dell'immaginario Di Final Fantasy in generale Che recupera eroi e antieroi Di tutta la saga E li fa scontrare Non ha mai risolto Come forse nessuno Dei titoli del suo genere Del tutto Il problema del bilanciamento Nel senso che Per tanti di quei prodotti Il bilanciamento è secondario Rispetto alla Spettacolarità Magari Degli attacchi O dei poteri O dei colpi Insomma Di determinati personaggi E quindi Se sei molto appassionato Di Final Fantasy È una Operazione Cioè un titolo Che magari Ti consiglio Diversamente Ecco Se lo prendi Per una questione Più ludica Che celebrativa Vacci un po' Con i piedi di piombo Il Dissidio originale Che uscì Per PSP O PS Vita Per che cosa uscì Il Dissidio originale Amici Ditemelo voi PSP Grazie Il Dissidio originale Aveva una Secondo me Un sistema di sviluppo E progressione Ruolistico Eccezionale Che nei capitoli successivi Si è un po' Spento In favore Appunto Dell'anima Più picchiaduristica Con le mille virgolette Che insomma Sperano di non dover Specificare Però ecco Non ha chiaramente La purezza Di un picchiaduro È un brawler Appunto Ecco Il Dissidio originale Mi piacque tantissimo Lo consumai Anche se non aveva A livello di quantità Di contenuti Poi Cioè Non proponeva Un numero di combattenti Altrettanto Elevato Rispetto a quelli Che trovi Nell'ultimo Esponente Di questa Sottosaga Splasmon Ciao Fossa Braccioni Maschi Cosa ti aspetti Su Switch Da oggi Alla fine del ciclo vitale Voglio un listone Folto Ti voglio bene Grazie per l'intrattenimento Quotidiano Grazie mille A te Per essere qua A tutti quanti Insomma Cosa mi aspetto Beh Sì Un listone Folto Zelda Ce lo mettiamo Vuoi che non esca Bayonetta Bayonetta 3 Deve arrivare Metroid Penso che lo lanceranno Comunque Entro la fine del ciclo vitale Di Switch Ma io sto anche Diciamo Contento Bisognerà vedere Se ci sarà Magari anche Un sequel Di Mario Odyssey O un altro Mario 3D Completamente inedito E secondo me Ci potrebbe anche Stare Alla fine Arrivato anche Arrivò All'epoca Sempre per Restare in ambito 3D Un Galaxy 2 Perché un Odyssey 2 No Secondo me Ci potrebbe stare Alla fine Alla fine si fa Anche perché Che gli piaccia Un po' Questa cosa Di mondo 3D Da esplorare Lo dimostra anche Bowser's Fury Alla fine ragazzi Si è visto nel trailer Bowser's Fury Sembra veramente Il punto d'incontro Fra Super Mario 3D World Che viene appunto Rilanciato Con questa riedizione E Mario Odyssey Con questo Mondo Super Mario 3D World Non so se ve lo ricordate Era proprio fatto A diorami Ok Ogni livello Era un piccolo Diorama Molto molto Contenuto Bowser's Fury Sembra voler mettere Questi diorami All'interno Trasformarli In piccole isolette Che sono In quest'arcipelago Da esplorare Complessi E quindi Mi sembra che Odyssey Abbia Lasciato Una traccia Speriamo che vogliono Recuperarla Anche con altri prodotti Christian 210 bit Fra Avvisa ragazzoni Che c'è una guida Su discord Per collegare L'account Twitch Che ne vedo Parecchi Che entrano E non lo hanno Collegato Per l'oggetto Segreto Lo vuoi L'affarino Per appendere Lo muro Beh direi di sì Assolutamente Christian Se non è troppo Complesso Non stare a impazzire Però Mi piacerebbe molto Sì ragazzi Se entrate Sul server discord C'è Appunto Una guida Ora non mi ricordo In che sezione Ma la trovate Per connettere Il vostro Account Twitch Con il server E questo vi permette Per esempio Di usare anche Le emoticon Del nostro canale Cioè del canale Twitch Anche su discord Quindi Fatelo Anche perché Appena lo fate Se avete anche Altri abbonamenti Ok Ad altri canali Che hanno Un server discord Lo scoprite Cioè Il programma Vi dice Ah guarda Con il tuo Account Twitch Che hai appena Associato a discord Puoi entrare In questi server Quindi magari Scoprite che Insomma Se avete Qualche altro Abbonamento Cioè avete Qualche altro Server a cui accedere Ecco Marco Verde Si abbona Per tre mesi Grazie mille Pietro Bembo Pietro Bembo Si abbona Per due mesi Grazie di cuore Per il rinnovo Federico Fossetti Secondo lei Parlando di switch A livello tecnologico Attuale Il gaming portatile Potrà avere Un'evoluzione Con la versione pro Ormai la grafica È troppo avanzata No no Un po' di Balzo in avanti Con un'eventuale Versione pro Si può fare Assolutamente Insomma basta vedere Anche i passi in avanti Che sono stati fatti Nella Produzione Di system Mono chip Appositamente Pensati Per la portabilità Secondo me Si può fare Un salto grafico Senza Senza ombra di dubbio Poi magari Ecco Switch Si trova Nella situazione Di doverlo fare In due direzioni Nel senso Anche nella direzione Di una Maggiore risoluzione Perché Decide di Colonizzare Anche Potenzialmente I salotti di casa Grazie alla sua natura Ibrida Però se pensassimo Invece Ad una dimensione Solo ed esclusivamente Portatile In cui magari Non hai necessariamente Bisogno di andare A risoluzione Incredibile Anche quello Ti fa capire Che Se tu volessi Mantenere La stessa risoluzione Potresti Utilizzare Un eventuale Scarto computazionale Per migliorare La qualità Poi Dei Delle scene renderizzate Il numero di poligoni Shader E via dicendo Quindi Si può assolutamente Fare Un altro passettino In avanti Anche In ambito Portatile Mi aspettavo Lo studio nuovo Invece È il 25 Eh sì ragazzi Ah ecco Una cosa Allora Aspettate Perché Allora Intanto Casatz Benvenuto Con il tuo Secondo account Ho sempre Comprato playstation Per le esclusive Quest'anno Grazie al game pass Vorrei comprare xbox E rinunciare Ad esse Ma ho paura Di pentirmene In caso playstation Diventasse un servizio Migliore Dimmi cosa devo fare Mi sto incazzando Casatz Hai proprio Urgenza Adesso Nel senso Nel senso Per ora È un po' Difficile Io so Ti posso dire Per certo Che secondo me Questa generazione Sarà molto combattuta Sul fronte delle esclusive Cioè xbox Ha fatto in modo Di colmare appunto Quel gap che c'era E addirittura Insomma Portarsi In vantaggio Al punto di vista Della quantità Di studi interni Perché dopo L'acquisizione Di Bethesda Sarà assolutamente Così Però Bisogna appunto Soppesare La qualità Di queste esclusive Su alcune Non abbiamo Assolutamente Alcuni dubbi Cioè Su alcune Non abbiamo Nessun dubbio Altre Devono Provare Che Che invece C'è la ciccia Ma anche Sony Nel senso Da una parte Avrà le sue Esclusive Ben conosciute Quindi E i suoi team Diciamo col pedigree Già comprovato Dall'altra Comunque Avrà da lanciare Anche una serie Di nuove IP Che anche lì Bisognerà vedere Come andranno Cioè Quindi Dirti ora Che cosa fare Chiaramente C'è un rapporto Quantità Prezzo Cioè Se 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 vuoi acquistare Sulla base del rapporto Quantità prezzo Il Game Pass Sarà un servizio Credo inarrivabile No Se la domanda era Il Playstation Now Diventerà Cioè Si avvicinerà Il Game Pass Ma sì Qualche passettino Potrebbe farlo In quella direzione Ma arrivare a Eguagliare il Game Pass Non credo Non penso proprio Ecco La mamma di Patrick Mews Si è buona per 16 mesi Grazie mille E dice Buongiorno Buongiorno Dottor Fossetti Lei è sempre Molto affascinante Grazie E anche Sara Si è buona per 3 mesi Grazie Sara E Dovevo fare Un po' di housekeeping Come si dice Che cosa succede Questa settimana Allora amici miei Questa settimana In verità Con me Ci vedremo Non spessissimo In particolare I giorni centrali Della settimana Quindi martedì Mercoledì E giovedì Io sarò Un po' impegnato Proprio Nell'ufficio Cioè proprio In ufficio A finire l'allestimento Adesso Appena stacco Questa live Fra un'oretta Vado subito A fare un Sopralluogo Con Cydonia Perché Cydonia Ci aiuterà Molto Dal punto di vista Della gestione Dell'audio Quindi Mixer Microfoni Non so Faccio questo Sopralluogo E Iniziamo a comprare L'attrezzatura Che ci serve Poi Mercoledì E giovedì Vengono I miei boss Ragazzi Sono tre giorni Cioè Nel senso Ho capito Mi disabbono Che cosa Sta accadendo No 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 Che cosa Sta accadendo C'è un pezzettino Di cosa E Vengono i miei boss Perché appunto Vogliono aiutare A fare l'allestimento Dobbiamo Gestire Probabilmente Due pc Per la regia Tirare tutti i cavi Mettere i passacavi Fare tutto Ok Tuttavia Ciò non mi impedirà Di stare con voi Per esempio Giovedì sera Nel senso che Giovedì sera C'è questa live Di Resident Evil Alle 23 Ahimè Chiedo scusa Saremo in sovrapposizione Con il buon Dario Prima Facciamo Una chiacchiera E un po' di social eating Insieme No no L'Aero Ci sono Ci sono Dice quindi Non segui con noi Lo showcase di Resident Evil No no Ci sono io Partiamo alle 19 Mangiamo Cioè Ordiniamo Una roba Con Glovo Facciamo social eating Poi facciamo chiacchiera Fino alle 23 E poi alle 23 Ci guardiamo Questo evento E E poi venerdì Ritorno per la colazione Quindi Ho saltato la colazione Di mercoledì Ma ve la faccio fare Con Marco Che ovviamente Può raccontarvi Oltre che di videogiochi Anche di demonologia Così Fra una cosa E l'altra E Cosa mi sono perso In merito allo studio Niente Stiamo Stanno Finalmente Montando I set Definitivi Quelli che Insomma Avrebbero dovuto Essere pronti Per Primo ottobre Poi novembre Poi dicembre Poi gennaio A gennaio Ce l'abbiamo fatta Forse A gennaio Spero che Ce la stiamo per fare Vi anticipo Che saranno Due set Ok Ehm Uno dei quali Un po' più Dinamico Che permetterà Tre o quattro Inquadrature Una postazione Per gli ospiti Insomma Sarà Spero Una cosa Che segnerà Un passo importante Per Every Eye Ma secondo me Un po' anche Per la Istituzionalizzazione Un po' Anche Del discorso Videoludico Su Twitch Nel senso che Ci sarà proprio Uno studio Di produzione Che speriamo Possa essere Una cornice Piacevole E ben recepita E Anche i video Che registravamo Dallo studio Avranno adesso Tutta un Diciamo Un guizzo diverso Grazie mille A Pietro Giuliani Che si è buona Per la prima volta Grazie a Dark Overload Che invece si è buona Per 35 mesi Manca un mese Ai tre anni Cuscina con fossa Quando? Allora Nello studio La cucina Non c'è Perché ovviamente Il nostro spazio È ancora piccolo Ma Ma Il piano Sulla lunga distanza Però ragazzi Cioè È come Grazie a Cree Che si è buona Per sette mesi Cioè Non voglio fare Lo stesso errore Delle software house E annunciare le cose Il piano sulla lunga distanza È Spostarsi poi In un nuovo Studio Magari insomma Fra un anno abbondante Spostando anche i set Perché li abbiamo fatti Modulari Che poi si possono Togliere Cioè si possono smontare Rimontare altrove E In quel caso Vediamo se Introdurre nuovi set A me non dispiacerebbe Assolutamente Avere anche una cucina A disposizione Immortal Phoenix L'hai finito? No Roberto Non l'ho finito Non l'ho finito E Questo giovedì Esce Il DLC Come si fa? Se faccio una live notturna Mi seguite? La faccio? Proprio notturna Notturna? Ne posso fare anche più di una Tipo dalle 23 in avanti Però mi scoccia Perché Appunto Poi A quell'ora Di solito C'è il buon Darion Non voglio assolutamente Insomma Vabbè Vediamo dai Fossa di la verità Con tutti questi rinvii Capisci come si sono sentiti Quelle di CD Projekt Con Cyberpunk Beh oddio Oddio Diciamo che Io lì Non ho mai capito Come mai Come mai Veramente Avessero annunciato Aprile Come data d'uscita Io quello non ho mai capito Ragazzi Fra l'altro Nel report di Schreyer In cui si dice Che lo sviluppo Del gioco È ripartito È cominciato Formalmente Non tanto Sette anni fa Ma appunto Nel 2016 Una cosa del genere Ecco Quelle erano Voci che già Insomma Percorrevano L'industria Quando la gente dice Ah dopo sette anni Dopo c'è una grossa differenza Fra fase di preproduzione E fase di produzione La fase di produzione Chiaramente Insomma Era più Breve Di quello che ci avevano lasciato Intendere Ecco Fra Cosa si sa Sul DLC Di Immortal Allora Si sa Intanto Che è arrivata Una demo Ok Il primo Sarà Una serie di prove Quindi Sul primo Non Non Pensare A cose Strabilianti Che arriveranno Cioè I contenuti Veramente Inediti Anche dal punto di vista Dello stile Del concept Arriveranno Con il secondo Che ci porterà In questa nuova area Caratterizzata Diciamo Dalla mitologia Cinese Il primo Sarà una serie di prove E la prima di queste prove Dovrebbe essere Già accessibile Dal gioco Cioè con l'ultimo patch Hanno aggiunto Il supporto Ai feedback Aptici Perché come vi abbiamo Sempre detto Il DualSense Era sfruttato solo Nella misura Del trigger Adattivo E non certo Dei feedback Aptici Della vibrazione Più Precisa E puntuale E' stato aggiunto Anche quella cosa Io non l'ho assolutamente Provato Quindi non vi saprei dire Che effetto fa Nel corso delle fasi Di combattimento E ci dovrebbe essere Appunto La prima delle prove Che rappresenteranno Il DLC A disposizione Dei giocatori Quindi questo Per il momento Si sa Io Ovviamente Non mi ci sono avvicinato Volevo farlo con voi In live Magari davvero Cerchiamo di ritagliarci Qualche ora Notturna Per fare questa cosa Allora Forza Mi consigli di comprare Forza Horizon 4 O fare il Game Pass Su PC Tech Flame Why not both Cioè Comincia facendo il Game Pass Così Hai accesso A una bella libreria Poi Se all'interno Del Game Pass Trovi dei prodotti Che per te hanno valore Su cui puoi investire Su cui vuoi investire Manda questo messaggio Agli sviluppatori Dici Eh vabbè Ma spendo di più Fida di che Il Game Pass Ti dà una Un'ampiezza Di possibilità Tale Per cui poi Quel costo Lo ammortizzi Del tutto Tu sai quanto Durerà Little Nightmares No Ovviamente no Prima di finirlo Di avere per le mani La versione definitiva Non Non possiamo sapere Ehm Bruschetta Si è buona Per Si è buona Ci lancia 10 bit Grazie mille di cuore Kiros Ciao Fossa Ma la lampada Con lo stemma Di Avriai Che vi abbiamo regalato Avrà un posto in vista Nel nuovo studio O magari in qualche live Assolutamente ragazzi Assolutamente Purtroppo Avete visto Com'era Il vecchio studio Ehm Avete visto Com'era il vecchio studio E fra l'altro Al di là Di quell'inquadratura Il vecchio studio Era completamente vuoto Quindi Quel bellissimo neon L'abbiamo fatto Intravedere Durante La La live Di Mario Kart Home Circuit Ehm Però Chiaramente Non siamo riusciti A valorizzarlo Anche perché Ehm Molto Occupa molto spazio E il nostro M Mobile Era proprio fatto Di piccoli Loculi Ehm E quindi Allora Se riusciamo a farlo Rientrare Nelle inquadrature Assolutamente Altrimenti Comunque ci sarà Un arredamento Ehm Per cui Potremo valorizzarlo E troverà posto Nelle stories Ehm Nelle foto Ufficiali Dello studio Quindi Insomma Siamo molto grati Per quella Ehm Per quel regalo E ci siamo Molto affezionati Assolutamente Grazie Ragazzi Ehm Fossa Domanda importante Puoi parlarci Dettagliatamente Delle sensazioni Delle emozioni Che ti ha dato Il bonsai Lego Sì Assolutamente Sì Lo posso fare Se vi va Ehm Là ci sono Anche i fiori Il bouquet Floreale Il bonsai Lego Io non Non è che Nella mia vita Abbia montato Così tanti set Ok Però il bonsai Lego Fin da subito Ehm Si Si presenta Come un Un set Estremamente Stravagante Ehm Intanto Si capisce Che Ehm Dietro Sia Per quel che riguarda Il bonsai Sia per quel che riguarda Il bouquet Floreale C'è un lavoro Concettuale Mirato Alla Creazione Di oggetti Con Dei pezzi Che Inizialmente Sono stati pensati Per altro Nel set Floreale Nel bouquet Floreale Questa cosa Proprio è Lampante Nel senso che Ogni tanto Vi trovate a fare I petali Delle Si Christian Assolutamente I petali Delle rose Con delle Con dei cofani Delle macchinine Lego Vi trovate a fare Una foglia Di Un Fiore Con Un'ala Dell'opterodattilo Ma anche qua c'è Perché ci sono Alcuni elementi Per esempio Le infiorescenze Del bonsai In versione Rosa Quindi Fiore di ciliegio Diciamo Sakura Ehm Le infiorescenze Sono fatte Con delle Piccole Rane Dipinte Dipinte Di rosa E ce n'è Una anche qua Che è In realtà Dipinta Di marrone Per fare Una sorta Di Nodo Della Cortez Cioè Del tronco Di questo bonsai Grazie mille a Sir Richard E a Bestia 33 No Bestia 88 Che si è buona Per 33 mesi Non so perché Ho fatto un miscuglio Ehm Quindi Già quella cosa lì Diciamo Del Del riuso Intelligente Di pezzi Che servivano per altro Secondo me È molto brillante Ma è anche Molto piacevole Costruire Proprio Il tronco Del bonsai Perché ha Diciamo Un design Quasi organico Fatto di linee Di Pezzi E bicromie Che sono un po' Inusuali Quindi Ti dà proprio Una bella sensazione Di meraviglia Mentre costruisci La parte centrale Ecco È molto più regolare Costruire ovviamente La base C'è anche una cosa Stranissima Che è Questi Pezzettini qua Questi sassolini Appunto Cioè tu ce li butti Proprio dentro Come se fossero Sì I sassetti La ghiaia Che di solito Si mette Insomma Anche Per scopo Sia Ornamentale Per scopo ornamentale Diciamo Sono proprio Ecco Liberi Cioè Si tolgono È un set Estremamente particolare Si costruisce In Un paio d'ore Due ore e mezzo Una cosa così Però a me È piaciuto molto Il bouquet floreale È piaciuto Mi è piaciuto Forse ancora di più Perché Ogni fiore Si costruisce In una maniera diversa Ce ne sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 Diversi E Quindi c'è anche Più varietà Sono due set Che vi consiglio Assolutamente Grazie mille a babbune Sì Che si è buona per due mesi Grazie per il rinnovo Il falcone Dice ciao fossa Che ne pensi Tutti i rumor Sulle esclusive microsoft Ma è davvero così Improbabile Che giochi bethesda Possano essere esclusiva Di microsoft Dal mio punto di vista Penso che microsoft Potrebbe farne qualsiasi cosa D'altronde Zenimax Diventerebbe un operaio Del direttore microsoft Comanderà lui Sì Io Sono d'accordo Nel senso Sono d'accordo Assolutamente Potrebbe darsi Che arrivino Delle esclusive Una delle robe Che mi sembra Meno plausibile Per esempio Però è che Indiana Jones Sia esclusivo Nel senso che Mi pare evidente Che Anche dopo L'acquisizione Di microsoft Cioè da parte Di microsoft Bethesda debba Onorare Gli accordi Pregressi Ok Tant'è che Deathloop Arriverà Sarà esclusiva Temporale PlayStation Ghost Tokyo Idem Ecco Se io penso a Indiana Jones Ok È chiaro che L'annuncio Di Indiana Jones È arrivato Adesso Ma È stato Preparato Prima Cioè Lucasfilm Games Si è Presentata Al pubblico Questo gennaio Ma Chiaramente Stava già agendo E io credo Che l'interesse Di Lucasfilm Games Sia quello Di portare I games Di Lucasfilm Alla platea Più ampia Di giocatori Anche perché Ragazzi Stiamo a parlare Di Disney Cioè Quindi Io credo Che L'accordo Di produzione Di Indiana Jones Sia Già stato Buttato giù Firmato E controfirmato Trovo Molto Difficile Che Lucas Abbia Detto Sì ok Facciamolo Un'esclusiva Per una Console Soprattutto In un momento Storico Adesso In cui Volenti O nolenti Bisogna Dire Che questa Console Non è La più Quella che ha La base Installata Maggiore Ok Quindi lì Ci sono Degli accordi Che Insomma In cui Entrano Altre forze In gioco Trovo Molto Difficile Che quella Possa Diventare Un'esclusiva Sugli altri Titoli Betesta Può succedere Assolutamente Di tutto Ma il fatto Che loro Stessi Abbiano detto Decideremo Di gioco In gioco Testimonio Al fatto Che si Possono Anche Assolutamente Decidere Di lanciare Esclusivamente Su piattaforma Xbox O Di fare Dell'esclusive Temporale Su piattaforma Xbox Fossa Finché si ride Si scherza Ok Ma oggi Sono rimasto Deluso Dei tuoi comportamenti Da quelli Di tutta La redazione Stavo Navigando Su Avriai Punto It Alla ricerca Del mio Videogioco Preferito Taz Wanted Ho trovato Una recensione Di poche righe Senza neanche Un voto Questa volta Esagerato Kasatz Perché vai a rimestare Nel torbido È È una colpa Che io Non riesco A lavar via Scusate Frank91 Si è buona Per sette mesi Grazie Grazie di cuore Buongiorno Fossa E buongiorno A tutti A me sembra Che Microsoft Può fare Quello che vuole Farle anche Multi piattaforma Gli azionisti Non sono La Hollus E quindi Hanno bisogno Di un ritorno Economico Quindi perché Criticarli Per questo Hanno speso Sette miliardi E mezzo Dovranno Rientrare Non ho Todor Ma io Non stavo Assolutamente Criticando Credo Semplicemente Quello che volevo Dire è che Le reazioni Del pubblico Ogni tanto Sono Un po' Cioè Più istintive Che Logiche Nel senso Che Cioè Già adesso C'è qualcuno Che dice No saranno Tutte esclusive No saranno Tutti Multi piattaforma Io credo Che semplicemente Loro abbiano Veramente La libertà Di fare Quello che è Meglio per loro A livello economico E quello che è Meglio per il gioco A livello economico E che quindi Semplicemente Bisognerà vedere La cosa Che mi sembra Già lampante È che Tutti questi prodotti Arriveranno Fin dal day one Sul game pass Quindi anche se Se alcuni di questi Non dovessero essere Esclusive Comunque Un vantaggio Comunicativo Per microsoft Ci sarà Così come Sarà Abbastanza lampante Il fatto che Se anche Dovessero esserci Dei prodotti Multi piattaforma Verranno Verranno Chiaramente Presentati Sui palchi Del Di microsoft E verranno Fatti giocare Alla stampa Su una certa Piattaforma Che è quella Di microsoft Quindi anche quello Già garantisce Un vantaggio A meno che Ovviamente Non ci siano Poi accordi Di altra natura Già presi Per esempio Non è detto Che Indiana Jones Non possa già avere Cioè che Lucasfilms Non voglia Fare un accordo Di comunicazione Con un'altra Con l'altra parte Ecco Potrebbe assolutamente Succedere Ripeto Lucasfilms È abbastanza Indipendente Poi si vedrà Però Nel caso Sarà uno Su Uno Su tutto il resto Della produzione Quindi ragazzi Stiamo a vedere Microsoft Già Ha Un vantaggio Estremamente Concreto Dal punto di vista Della comunicazione E anche Dell'offerta commerciale Perché il suo Game Pass Diventa Straricco E strainteressante Quindi The Medium Uscirà anche su xcloud Rip No Non uscirà su xcloud Perché xcloud Al momento Non è Diciamo Equipaggiato I server Non sono Adeguati A far girare Ciò che è Esplicitamente Next gen I server Sono delle xbox one s E quindi The Medium Come ci diceva Il team Invece è Pensato Per le architetture Di nuova generazione Anche perché Ha bisogno Della loro potenza Computazionale Per far Per renderizzare Contemporaneamente Due scenari Diversi E quindi No Non succederà Quella cosa Per il momento Poi Nulla vieta Che xcloud Abbia Cioè Venga potenziato Sul fronte dei server Charles Zod Power Scusa Fossa Ma io alle 11.14 Sto facendo Un dolce risveglio Chi è che Che a quest'ora Fa un cordiale buongiorno No Hai ragione Hai ragione È giusto Dovrei Assolutamente Cambiare Chiedo scusa Per il disrispetto Che ho Diciamo Mostrato Con la scelta Di questo titolo Assolutamente Improprio Brutto Brutto Una cosa brutta Brutto Un'onta Che spero Di lavare Col tempo Solo col tempo Hai mai giocato Hyper Light Drifter Lo consigli Molto bello Hyper Light Drifter Sia nelle Dinamiche di gioco Sia nella Nel world building Nella costruzione Di questo mondo Molto affascinante Anche la La Pixel art È molto bella Preparati A un gioco Con una sfida Accesa Sia Per quanto riguarda I puzzle ambientali Sia soprattutto Per quanto riguarda Le sequenze Di battaglia Gli scontri Propriamente detti Molto consigliato Aspettative Su Resident Evil 8 Village Che ne pensi Dei trailer Mostrati Ma mi hanno Incuriosito E Chiaramente Chiaramente Resident Evil 8 Sembra proseguire Nel solco Di Resident Evil 7 Con questa Volontà Di Riesplorare Un po' Mi sembra Che la scuola Sia questa Prendere Delle Situazioni Delle Delle situazioni Che possono essere Ricondotte Ai Ai temi Classici Dell'horror Ok E forse Anche Alle Agli stereotipi Perché no Intesi In maniera Non necessariamente Negativa Grazie anche A Cord Last Che si abona Per 4 mesi Ciao Benvenuto E Dicevo Prendere Delle situazioni Che sono Riconducibili Ai temi Classici Dell'horror E Rileggerle In chiave Resident Evil Cioè Anche Resident Evil 7 Va proprio lì Cioè Nel senso Va in direzione Di Cioè Fa proprio Un immaginario Che di solito Non era Vicino A Resident Evil Perché l'horror Di Resident Evil Era un horror Che aveva Dei tratti Propri Qui invece Adesso siamo andati A riprendere La tematica Della famiglia Disfunzionale Chiamiamola così Nel Bayou Della Louisiana E invece Adesso Andiamo un po' A riprendere I temi Dell'horror Classico Fra vampiri E Licantropi E E appunto Vediamo Come sapranno Integrarli Nella mitologia Nella mitologia di Resident Evil Secondo me è un'operazione Interessante Ma sempre rischiosa Perché appunto Si allontana molto Dalla Mitologia di base Della saga Resident Evil 7 Resident Evil 7 Ce la faceva Ottimamente A Poi trovare Un modo Per far coesistere Queste due anime Adesso Bisogna Continuare a lavorare In questa direzione Sono molto Sono molto Incuriosito Dal punto di vista Invece delle meccaniche Di gioco Secondo me Già il 7 Funzionava molto bene Se lo hanno Rifinito Un pochino Ci possiamo aspettare Comunque qualcosa Di efficace Ruffi 84 Si abbona per 21 mesi Michele 79 Si abbona per 8 mesi Grazie mille di cuore Ripeto Secondo me Bisogna un attimo Cioè bisogna sempre Evitare di strapparsi Quello che Di strapparsi I capelli Di essere Vediamo Che cosa Vediamo più concretamente La produzione Perché per ora Si è vista proprio A spizziche e bacconi Sai fosse Cosa mi perplime Dice Sushi Prendi il fascino Del sovrannaturale E riducilo Ad un'infezione virale Tutto l'immaginario Traballa Eh Sushi Gamers Ripeto Sono consapevole Anch'io Che c'è quel rischio Ma c'era già In Resident Evil 7 Poi in Resident Evil 7 Riuscivano A trovare Una chiave Di volta Per Per reggere Tutto l'arco narrativo E secondo me L'avevano L'avevano fatto bene Ecco Devono rifarlo Anche adesso E rifarlo In un contesto Completamente nuovo Sembra quasi Che vogliono fare Tipo Chris Indagatore Dell'incubo Che ogni volta C'ha una missione Specifica Diversa E Ogni volta Incontra Una tipologia Di horror Diversa Non lo so Se poi Effettivamente Questa Idea che mi sono fatto Verrà Comprovata Dai fatti Però Mi è sembrato Che l'operazione Possa essere Proprio quella Non so se vi è dato La stessa idea Grazie mille a Stefano Che si abbona per otto mesi Buongiorno Fossa Dopo il gruppo Telegram E il nuovo gruppo Discord Manca solo il profilo Su OnlyFans Quando riusciremo A vederti finalmente Senza camicia Bah Mai dire mai Tipo Scooby Doo Ma più o meno Vi immaginate Se nel trailer Adesso Ci hanno fatto vedere La signora Vampiro No? Adesso arriva Chris Gli toglie la maschera E sotto c'è Wesker Grazie mille Jeff Cava Che si abbona per dieci mesi Hey 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 Franca Questo mi ricorda molto Il professore delle superiori Di biologia Che quando la gente Nei banchi Soprattutto quelli in fondo Alla classe Si metteva un po' A discutere Durante la lezione Faceva Hey 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 Chiacchierino Faceva proprio così Fossa sei contento Del sequel di Ghost of Tsushima Ma Non è ancora Stato annunciato Tonino Che cosa ci manda? Nuove amici Snapchat Molto bene Tonino Come faccio Tonino A fiammare Il tuo messaggio Tonino Noi amici Snapchat Aspetta Uiui Postazione chat Oh eccolo qua Vai Oh tonino Tonino Volevo solo fare amicizia Forse sei contento Del sequel di Elden Ring Fossa che ne pensi Della nuova strategia Comunicativa di Nintendo Che shadow droppa Quel poco che avrebbe Da annunciare In eventi dedicati Alla direct Per intenderci Allora intanto Grazie a Bruschetta Che sei buona Per due mesi Adesso ti leggo Subito E Beh la strategia Comunicativa di Nintendo Secondo me Per il momento È proprio figlia Di questi tempi Nel senso che Non avendo Più Cioè trovando Difficoltà Nel costruire Una Cioè nel pianificare Sulla lunga distanza Produzione E pubblicazione Allora A quel punto Probabilmente meglio Scomporre E avere Dei singoli appuntamenti Però Credo Che Nintendo Voglia tornare Poi a fare I direct Quelli un po' più Orientati Anche a Definire Appunto La Strategia Sulla lunga distanza Credo che voglia farlo Ma Trovandosi Molto in difficoltà Per quelli che sono Cioè per le questioni produttive Sia legate Ai direct Stessi Sia legate Alle Ai vari titoli Quindi ai vari team di sviluppo Che lavorano su Switch Al momento Ha deciso di fare così Secondo me Fa anche bene Per fortuna Siamo arrivati A una situazione In cui Questi eventi Anche singoli Almeno Nintendo ce li annuncia Ci dice Oh guarda che domani Arriva l'evento O il trailer Dedicato a Prima invece Proprio Pum Alle due Cioè io vivevo Nell'ansia Alle due Tipo Ero lì così Dieci alle due Oh porca miseria Ma adesso non è che Nintendo ci lancia Un trailer di Zelda 2 Invece Adesso Hanno Se non altro La cura Di direci Domani Stai attento Che a quell'ora Arriva sta roba Bruschetta Fossettino Si sa nulla Di una possibile edizione PS4 PS5 Di Shin Megami Tensei 5 La remastered Del 3 Dovrebbe uscire Su queste console Beh Non si sa Assolutamente nulla Nel senso che Il gioco deve ancora uscire Quindi Sai benissimo Che Quando c'è di mezzo Atlas È proprio Impossibile Avere un'idea Delle strategie Sulla lunga distanza Quindi Prima facciamolo Uscire su Switch Giochiamolo E poi mettiamoci Aspettiamo Per vedere se decidono Di Colonizzare Anche altre piattaforme Si hanno notizie riguardo PS5 No Ahimè No Notizie per Bloodlines 2 Periodo di lancio No Anche in quel caso Ragazzi Tutto fermo Tutto fermo Falcore dice Cosa ne pensi Di giochi con i nani Vedo che sei bravo Come minatore Per favore Siamo precisi Sono bravo Come Trivellatore Ok Ho gestito Il momento Sono molto felice Che invece Dario Abbia deciso Di Mostrarvelo Sul canale Francesco Puoi fare un saluto Alla mia ragazza Che è Cristian Sta diventando gelosa Il suo nome è Serena Cerca di farle cambiare idea Ti prego Serena Non ti preoccupare Il rapporto fra me E Cristian Diciamo che Ci diamo cose Che Che Tu Non puoi dargli Non Non ti Non ti arrabbiare Accetta Semplicemente Questa cosa Vorrei dirti Che è un rapporto platonico Intanto Ale Ci raggiunge Anche in chat Ale Che oggi Alle 15 Vi fa Una Ciao Ale Buongiorno Vi fa un Un Percorso Cioè inizia un percorso Di avvicinamento A Hitman 3 Perché Domani Scade L'embargo Della recensione Di Hitman 3 Una delle uscite Principali Di gennaio Insieme appunto A The Medium E a Scott Pilgrim La masterizzazione Di Scott Pilgrim Che vi consiglio Assolutamente Se vi piace Poi picchiadura Scorrimento Vecchio stile Eccezionale Vabbè insomma Domani Scade la recensione Di Hitman Domani Alle 17 Dopo il Classico Q&A Alessandro Gioca A Hitman 3 Quindi insomma Ve lo Mostra anche qua Sul canale Oggi Ha deciso Di fare Un percorso Di avvicinamento E quindi Un paio di orette Le dedica A Hitman 1 e 2 Che ragazzi miei Sono degli stealth game Con i controcazzi Sono degli stealth game Nel vero senso del termine Cioè Vi lasciano anche Sperimentare Cioè sono degli stealth Molto Cioè capaci Di recuperare Un po' Quella filosofia Anche di Approccio più Libero E interpretazione Insomma Molto meno guidata Che La saga Ha sempre portato avanti Fin dagli albori Anzi C'è stato un momento In cui è diventato Un po' più pilotata Un po' più lineare Per fortuna Quel momento È Completamente passato Quindi se non li conoscete Se non conoscete Questo rilancio Che I.O. Interactive Ha portato avanti Nell'ultimo lustro Oggi È un momento Per dargli un'occhiata E poi potrete decidere Magari Guardando anche La diretta di domani Se recuperare Hitman 1 e 2 Oppure gettarvi Direttamente sul 3 Sono abbastanza Modulari C'è una backstory Ma insomma Potete anche Scegliere Di prenderne Di prendere il terzo Proprio Concentrandovi Solo ed esplicitamente Sulle meccaniche di gioco Quindi Fateli compagnia Oggi è alle 15 Domani Alle 17 Quindi questo percorso Dedicato a Hitman Esatto Bruni più stealth Cosa mai può andare storto Sarà un assassino Impeccabile Impeccabile Sì Sono d'accordo Il 2 è grandioso Li puoi rigiocare In modi diversissimi Il 2 è Vabbè L'1 È stato Ha fatto un po' Scalpore Perché era proprio Il ritorno Di quella formula In un momento storico In cui il gaming Insomma Stava andando In una direzione Un po' Diversa In una direzione Un po' Della linearità Del Della Supervisione Dei game designer Che imponevano Un attimo Al giocatore Determinati approcci E l'1 Diciamo Seminava Un po' Su un terreno Diverso Il 2 Faceva crescere Questi semi Assolutamente È vero che stanno Sviluppando Un nuovo Splinter Cell Chiede Chiede Eddie Non ci metterei La mano Sul fuoco Che vogliano Rilanciare La figura Di Sam Fisher O comunque Utilizzare La figura Di Sam Fisher Mi sembra Evidente Ci sta Che siano In preproduzione Però ecco Non Non te lo do Per certo Signor Fossette Mi sa fare una Top 3 Per te Ovviamente Delle migliori Esclusive Sony Odio Carci Definiamo Il periodo Migliori esclusive Sony Playstation 4 Dell'epoca Playstation 4 Della generazione Che è arrivata Alla fine Sicuramente ci metto The Last of Us Parte 2 Sicuramente ci metto Bloodborne E poi E poi E poi E poi E poi diventa complesso Perché c'è da considerare C'è da considerare Sicuramente Uncharted Sicuramente The Last Guardian God of War No God of War Assolutamente God of War God of War Sì Sì Dai Naughty Dog È riuscita a scalzarsi Da solo Cioè nel senso Per me Uncharted 4 È bellissimo Però Dell'East of Us È superiore Poi God of War E poi Bloodborne Death Stranding Non Non lo so Se Cioè È uscito anche Su PC Non so se È giusto farlo ricadere Nella casistica Delle esclusive Sony Red Dead Redemption Non è esclusiva Sony Negan Non è Stiamo facendo Stiamo facendo proprio La cosa delle esclusive È più giusto persona Mettercelo Metterci dentro Le esclusive Anche se Credo che la domanda Fosse orientata Al Alla produzione Dei team interni Credo Eh Radiant Beetle Riprovo con la domanda No non ti scusare Fai benissimo A ripetere Scusatemi voi Purtroppo sai La mattina Siamo sempre tanti Ed è difficile Leggere tutto Credi che faranno La versione PS4 Di Resident Evil 8 Il range È molto scalabile E anche se avesse La grafica del set Sarebbe il top Ci sono Sono arrivati Dei rumor Per cui Le 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 Versioni Old gen Sarebbero state Cancellate O non sarebbero Più nei piani Insomma Io francamente Dopo aver visto Il Resident Evil Engine In una versione Speciale Tutto quanto Ma Far girare La demo Di Monster Hunter Rise Su Switch Dico che Secondo me Quel motore lì Non ha Troppi problemi A essere Cioè ad adattarsi Cioè a fare in modo Che i prodotti Possano essere scalati E fatti girare Anche su Le console Della scorsa generazione E poi c'è anche Un'altra cosa Voi avete visto Cioè voi avete preso Il caso Cyberpunk Cyberpunk come Esempio lampante Di ciò che Può succedere Nel caso In cui i progetti Siano molto ambiziosi E Lo sviluppo Sia condotto In maniera Non troppo virtuosa Ma Il caso Cyberpunk Non deve essere Non deve essere Preso A modello Per Diversi motivi Uno Perché loro hanno In maniera lampante Detto Di aver Sbagliato La filosofia Dello sviluppo Cioè invece che procedere In parallelo E Lavorare Assieme Alle versioni console E le versioni pc Hanno fatto una cosa Che Secondo Che Gli si è ritorta contro Ovvero Hanno pensato Solo e soltanto Principalmente Alla versione pc E poi L'hanno Scalata Hanno provato a scalarla Per farla girare Su altri hardware Magari Insomma ci sono Dei team di sviluppo Che portano avanti Invece in parallelo Le varie versioni O addirittura Che fanno il processo inverso Che portano avanti La versione console E poi magari Diciamo La versione pc La Fanno Discendere Da quella Console Quindi Non necessariamente Tutti Devono Incappare Nelle stesse Problematiche Inoltre Il fatto che Cyberpunk Giri Così male Sulle console Della scorsa Generazione Per cui Comunque Doveva essere A cui comunque Doveva essere Destinato È legato L'ha detto Il team di sviluppo Anche Alla difficoltà Nel gestire Lo streaming Di dati Che Per un titolo Open world Di quella Scala Diciamo E Sostanzialmente Senza tempi Di caricamento A meno che non ci sia Il viaggio rapido Ma vabbè Lì è un'altra cosa È molto difficile Da gestire Io credo Che un prodotto Come Resident Evil Possa Più facilmente Per sua stessa natura Gestire La mole Di dati Necessari Al rendering In maniera Un po' Più facile Quindi Non Prendete Il caso Di cyberpunk Come Emblematico Di tutti i problemi Che possono esserci Ad avere Delle produzioni Cross gen In questo periodo Storico Secondo me Resident Evil Se decidessero Di Portare Resident Evil 8 Anche sulla vecchia generazione Avrebbero Problemi molto meno Pressanti Quindi Per me Ha assolutamente Senso Che lo facciano Anche a livello Commerciale Ciao fra Buongiorno Dice Toneggia 89 Che sia buona Per tre mesi Mi serve aiuto Sono appassionato Di gaming Seguo tutto ciò Che è inerente Alla mia passione Videoludica Ma da tempo Non riesco più A giocare Con divertimento Non mi prende Ultimo gioco Portato a termine Final Fantasy 7 Remake Con delusione Io ti do il consiglio Che do A tutti quelli Che incappano In un momento così Uno Non pensare Che sia male Allontanarti dal gaming Per un periodo Un po' più Esteso Se vuoi smettere Per un paio di mesi E poi vedere Se si riaccende La scintilla Non succede niente Non sentire La pressione Di dire Ok Aiuto Mi fermo per due mesi Mi si accumula Il backlog Quel tipo di ansia Devi proprio Scacciarla completamente Due Non so che tipo Di giocatore sei Toneggia Ma Molto spesso Quando qualcuno Sente un po' Di stanchezza Magari legata Anche a I temi I modi Le comunicazioni Del mercato Dei tripla C'è un'isola felice Dal punto di vista Sia Creativo Che comunicativo Che tematico Che stilistico Che è Quella del mercato Indipendente Io non so Quanto tu lo frequenti Se la risposta È poco Prova proprio A Cambiare Approccio E riscoprire Qualche perla Indie Che magari Ti può Riaccendere La scintilla Ah c'è il Chi è Chi è Che ci mandava Sì Forse quando esce Elden Ring Ci manda L'annuncio L'abbiamo già Trattato Non abbiamo Parlato qui Del Nuovo studio Di Itagaki Che si chiama Itagaki Games Vediamo che cosa fa Vediamo che cosa fa Itagaki mi sembra Una personalità particolare Diciamo così E il fatto che Il nuovo studio Di Itagaki Che si chiama Itagaki Games Mi fa capire Che forse Non ce la fa proprio Ad abbandonare Quella che è stata Nella sua Negli ultimi anni Della sua attività La Il problema più grande Ovvero Il suo Egocentrismo Lampante Ecco Mi è sempre sembrato Uno di quelli Che Ah va tutto bene Perché l'ho fatto io Ok E anche di fronte al Terribile 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 Devil's Third Si è messo a sbraitare Dicendo Ah ma la critica Non l'ha capito Il gioco andava bene Perché l'ho fatto io Andava bene così Insomma Vediamo che cosa fa adesso Daniele 000 Si è buona Per 11 mesi E gli manca Un mese All'everversario Grazie mille Buongiorno Fossa rumor Su qualche state of play No non ce ne sono Di rumor concreti Su uno state of play Fossa vedremo mai Un nuovo Wolfenstein E secondo te Sarà esclusiva Xbox Visto l'acquisto Dello studio Spero di no Dice Peppe Guarda Ripeto Su questa cosa Delle esclusive Di Bethesda Atteniamoci a quello Che ha detto Microsoft E Diciamo che Si valuteranno Caso per caso Io credo che Anche per Continuità E Continuità nel rapporto Con i propri fan Non sia facilissimo Prevedere Che I sequel Di saghe Già affermate Diventino automaticamente Esclusive Xbox Ripeto Già Xbox Avrebbe comunque Dalla sua Un vantaggio Non da poco Che è quello di averle Fin dal day one Nel Game Pass Stiamo veramente parlando Di un vantaggio Non da poco Cioè Stiamo parlando di un gioco Che da una parte Costa 70 euro Nel migliore dei casi 80 nel peggiore E dall'altra Costa L'abbonamento Al Game Pass Cioè È Un cambio Importante Cioè una differenza Importante Però Ripeto Potrebbe anche Succedere Che invece Decidono di Andare All in Sull'esclusività Sul concetto Di esclusività E Le produzioni Bethesda Anche magari Appartenenti a saghe Molto conosciute E già diffuse Anche su altre piattaforme Siano davvero Esclusive Per l'ecosistema Microsoft Questo non lo sappiamo E non Non mi sento Di dire Di fare pronostici Mi sento Invece di dire Che Machine Games Sì Credo che porterà avanti La saga Di Wolfstein Non so come Non so quando Ma Penso che nei piani Cioè Che sia evidente Che nei piani Ci sia Almeno un altro Capitolo principale A conclusione Di un'ideale Trilogia Che poi ha avuto Diverse propaggini Con Cyberpilot Con Youngblood E via dicendo Però insomma Che è iniziata Con The New Colossus Con The New Order E Proseguita Con The New Colossus Matt Max Si abbona Per undici mesi Grazie mille Hyrule Si abbona Per sei mesi Con questo Il galliardetto d'oro Briccolo Ci lancia 90 bit Grazie di cuore a tutti Grazie anche a quelli Che si stanno iscrivendo Vi siete iscritti In tantissimi Stamattina E come sempre È un supporto Che apprezziamo Moltissimo Grazie 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 di cuore Fossa Secondo te Rockstar Games Ha in pancia Un sequel Per Eleonore Quello lo vedo Un po' più difficile Ah beh Peccato Perché Eleonore Tutte le volte Che dico Eleonore Mi viene Eleonore Casalenio Mi hanno rovinato Il titolo Di quel gioco Con questo meme Eleonore Aveva un ottimo Sistema Di Di Indagine Secondo me Non perfetto Si poteva Ripulire un pochino Ma insomma Procedendo Cioè andando avanti Con Il lavoro Sulla componente Dialogica E il lavoro Di raccolta Indizi Sarebbe potuto Diventare Proprio un brand Di giochi Investigativi Veramente Potente Quali ricordi hai Tra la battaglia Di PS1 E Nintendo 64 Allora Intanto sono ricordi Vabbè Insomma Legati anche ad un periodo Bellissimo Della mia vita In generale E della mia vita Di videogiocatore Però Vabbè Bisogna anche ammettere Che in Italia C'è stato poco gioco Nel senso che La diffusione Di Playstation Anche per questioni Non legate Direttamente ai meriti L'Udici Fu Impressionante E imprevedibile E un po' Sconvolgente Nel senso che Playstation La prima Playstation Portò Nelle case Cioè portò Il videogioco Dove Cioè Imposti Veramente Insospettabili Non lo voglio Accomunare All'effetto Wii Perché l'effetto Wii Fu ancora Più dirompente E Insomma Raggiunse Un Anche a livello Di diffusione Credo che sia stato Senza precedenti Però Insomma La prima Playstation Fu La console Che Fece un po' Per prima Uscire il videogioco Dalle nicchie In cui se ne stava Mentre Nintendo 64 Era Strenuamente Difesa Appunto Dai videogiocatori Duri e puri Che Che vedevano Sony come Come l'avanzata Dei barbari Loro erano A difesa Della grande Muraglia Sostanzialmente E Insomma In effetti Potevano vantare Delle priorità Perché Roba come GoldenEye Roba come Mario 64 Era Evidentemente Era una roba Cioè Erano dei capolavori Clamorosi Uno si inventava Il linguaggio Del platform Tridimensionale L'altro Assieme a Come si chiama A Perfect Dark Faceva capire Che si poteva fare First person shooter Anche su console Però Sony aveva Dalla sua Insomma Una Diffusione Capillare E la capacità Di parlare A una nuova generazione Perché Anche quella Fu la forza Di Sony La La Sony Seppe Trovare Degli immaginari Che erano Che risuonavano In maniera Particolarmente Convincente Con Quella generazione Nata Alla metà O sul finire Degli anni Ottanta Che Nel Alla fine Degli anni Novanta Era adolescente O preadolescente E che aveva Bisogno Di 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 Perché era Cresciuta Con Con diversi Riferimenti Culturali Estetici E visivi E Sony Seppe Conquistarla Integralmente Con i suoi prodotti E con le sue Esclusive Fossa ti prego Senza rompere L'embargo Darmi Ottimismo Per Elden Ring Non sono Assolutamente Sotto embargo Non c'è Un embargo Non c'è Nessun embargo Non ho firmato Nulla E però Non dico niente Cosa ne pensi Di New Pokemon Snap Secondo te È possibile Un Pokemon Direct Entro gennaio Allora Per quanto riguarda Il Pokemon Direct Non mi vorrei Sbagliare Ma L'anniversario Dei Pokemon Il 25 Anniversario È proprio A febbraio Quindi Io fossi In loro Invece che Un Un nuovo Pokemon Direct Farei Un evento Grosso Un po' Un po' Più Roboante O Reboante Come dice Il Buonale Come si Dovrebbe dire In effetti Penso che lo faranno A febbraio Il 27 febbraio Ok Perfetto Quindi Non me l'aspetto Prima Cioè Avrebbe poco senso Come si dice Spezzettare La comunicazione Frammentare La comunicazione Accentra Tutto lì Cosa ne penso Di New Pokemon Snap Coraggioso Riportare Pokemon Snap In auge Adesso Non so Quanto Possa essere Un prodotto Commercialmente Efficace Perché Perché È difficile Abbraccia Un Canone Ludico Molto difficile Da Vendere Oggi Io sono Contento Che Che ci sia Pokemon Snap Per Per questo Per un motivo Specifico Che è questo Ogni tanto Mi sembra Che I Videogiochi Della saga Principale Non riescano A Raccontare In maniera Troppo Efficace Anche Tutta quella Come Come La posso Chiamare Quella Componente Faunistica Ok Che In verità Pokemon Ha sempre Avuto Cioè A far Vedere Un po' Il Dietro Le quinte Cioè La vita Dietro Le quinte Delle battaglie Ok Perché Perché Quello Dei Pokemon È Un Ecosistema Fatto Di creature Che interagiscono Fra di loro Hanno degli Usi Delle Abitudini E Pokemon Snap Dovrebbe Dovrebbe Risolvere Questa Cosa Facendovi Cioè Sottolineando Un po' Di più La componente Naturalistica Chiamiamola Così Ok Grazie mille a Simo Che sia buona Per cinque mesi Quindi Io sono contento Che esista Pokemon Snap E credo che Ci siano comunque Ci sia una parte Dello zoccolo duro Dei fan Che sia contento Che esista Il problema È che questa felicità Nasce appunto Secondo me Anche da quella Che è un po' Una mancanza Dei capitoli Principali Cioè Non vedo Perché Non possano Essere integrati Dei momenti Più Pokemon Snap All'interno Dei capitoli principali Magari Variandone Appunto La struttura Che poi È anche Un po' Quello che Il pubblico Chiede Sarebbe molto Bello Se Pokemon Company Game Freak Riuscissero A far emergere Quell'aspetto Lì Anche Nei capitoli Principali Invece che Doversi Trovare A Commissionare Un Prodotto Che Copre Anche Quell'aspetto Va bene Amici Stacco Stacco Con 5 minuti Di anticipo Mentre l'Ox Si è buona Per 28 mesi Stacco Perché Devo Correre Proprio In tema Pokemon A incontrare Cydonia Non per Parlare Per fare Il sopralluogo Dell'ufficio Visto che Ci Aiuterà Appunto A gestire La componente Audio Grazie mille Axie Che si abbonano Per 31 mesi E dice Meno 2 A Cristo In effetti Di solito Sono gli anni 33 Sono gli anni Noi possiamo fare I mesi Di abbonamento Di Cristo Va bene Daiwaz83 Si è buona Per 10 mesi Grazie Grazie di cuore Allora Ragazzi miei Gli ultimi Annunci Su Cosa c'è oggi Alle 15 Fate compagnia Ad Alessandro Che Vi Fa vedere Hitman 1 E 2 In previsione Della recensione Di Hitman 3 Che arriva domani Alle 17 C'è Wild Rift Con Cydonia E Terenas Alle 21 e 30 Rainbow Six Siege Forse di notte Ci infiliamo Immortals Perché voglio finire Questo Immortals Prima del DLC Che però ormai Insomma I tempi stringono Ehm Sì I vettori in C++ No Non te li so spiegare Casatz Ehm Così Al volo Credo che sia anche Complesso Poi Madonna L'esame Di informatica L'avrò dato Undici anni fa Dodici anni fa Non me lo ricordo più Ehm Canale Telegram Nuovo server Discord Iscrivetevi Raggiungeteci Ehm Usate questi strumenti Il server Discord Ha appunto Dei canali Dei canali tematici Dedicati a chi vuole fare Una discussione più Seria A chi vuole Memare A chi vuole giocare insieme Mi raccomando Ehm Sfruttate queste possibilità Grazie a tutti quanti Come sempre La mattina Mi riservate Sempre un'accoglienza Eccezionale Ehm A presto Buona prosecuzione Buon pranzo Buon pranzo